Andrea Pancani, i temi di questa edizione di Forum Missa Pulire dedicati alla gestione dei servizi integrati, questa nuova normalità, il tema della memoria che tanto ha appassionato pur non essendo immediatamente concreto e percettibile e poi quello di ieri progettare per la salute e per la sicurezza, sono temi attuali per i quali serve una sensibilità che la comunicazione deve attivare e sostenere? Assolutamente sì, però restringendo la riflessione rispetto alla tua domanda, io quello che dico è questo, è che questa sesta edizione del Forum Missa Pulire sia nel dibattito stamattina sulla memoria, sia appunto nelle due sessioni che tu hai ricordato, ha peccato di una cosa, cioè della scarsa partecipazione e tutto si tiene perché questo settore, che è uno dei tanti settori frammentati da un punto di vista industriale italiano, se non riesce a capire che deve fare massa critica e che deve approfittare soprattutto per capire le criticità ma anche per condividere le opportunità, le sfide future, deve approfittare di occasioni e appuntamenti come questo, non ce ne sono molti, questo appuntamento ha una caratteristica nel suo DNA, quello di parlare dei problemi direttamente legati alle aziende di questo comparto ma anche di gettare il cuore oltre l'ostacolo, proprio con questioni, argomenti di scenario, ecco perché la memoria era un argomento di scenario, perché la memoria ci inchioda a che cosa? Attenzione a non vanificare quelle cose molto gravi che negli ultimi anni sono successe dalla pandemia alla crisi energetica in seguito anche al conflitto in Ucraina e se questo comparto vuole guadagnare credibilità, vuole guadagnare in comunicazione, quindi farsi conoscere e soprattutto guadagnare esperienza da quello che è successo, però si deve mettere in gioco quindi io credo che la qualità, l'approfondimento, la bellezza di questo confronto doveva, questo doveva corrispondere una maggiore partecipazione, lo dico così, senza polemica, però si può fare un piccolo sforzo, venire alla fiera di Roo poi sono un giorno e mezzo tutto concentrato, perché io credo che se fossi un imprenditore del settore come dire, avrei imparato qualcosa Il ruolo delle donne in questo settore, tra i relatori non c'è stata molta presenza femminile eppure una presenza significativa nel mondo Assolutamente sì, anche se poi nel panel finale, quello sui servizi integrati c'erano rappresentanti, diciamo, donne che rappresentano importanti organizzazioni tutte straniere mi dirai, no? Sì, tutte straniere però lì si è vista plasticamente, anche proprio nel panel, l'importanza delle donne io dico una cosa che non vuole essere né retorica né, come dire, consolatoria non c'è dubbio che le donne, questo lo si è detto in tutti i modi, contribuiscono proprio al PIL più donne impiegate a tutti i livelli, quindi a livelli anche apicali darebbero una grande mano e lo commentavo con un ospite, proprio mentre si susseguivano gli interventi dicevo guarda con che profondità di analisi e con quanta, come dire, tenacia, serietà stanno parlando ed esponendo queste tematiche perché in questo secondo me proprio le donne hanno una marcia in più grazie a tutti